Sabato 16 novembre è la giornata nazionale della colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare con l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Sì, è un'esperienza che è molto data anche nella nostra regione, a cui va la gratitudine perché è un'iniziativa sicuramente a cui rivolgere il applauso di tutti con numeri molto significativi che hanno un risvolto molto importante, quindi veramente mi sento non solo di rivolgere un appello a partecipare a questa colletta, ma mi sento di dare tutta la nostra gratitudine per quello che quotidianamente si fa, perché c'è il giorno della colletta, ma dopo il giorno della colletta c'è tutto l'enorme lavoro che viene prima e poi anche dopo, quindi veramente grazie, si tratta di volontariato e noi sappiamo benissimo che il volontariato nel nostro Paese è un valore aggiunto. Il senso della mia partecipazione è un senso che nasce da una partecipazione personale, io sono anni che partecipo alla colletta alimentare, l'ho fatto personalmente per molti anni, ho accompagnato anche molti studenti e molti ragazzi ad un gesto che è un gesto di civiltà e di solidarietà. Il senso poi della partecipazione nazionale è il senso che permea l'azione del governo, sin dal suo insediamento, che è stata quella di sostegno alle classi meno abbienti. Lo abbiamo fatto e lo facciamo anche oggi in manovra con uno stanziamento importante, quasi tutta la manovra, 18 miliardi su circa 30 miliardi di manovra, sono dedicati al sostegno ai redditi più bassi attraverso il taglio del cuneo fiscale che viene reso strutturale e attraverso il sostegno nella politica fiscale con il taglio delle aliquote, con l'abbassamento delle aliquote sui redditi più bassi. A questo si associa anche l'importante stanziamento della carta dedicata a te che viene anch'esso reso per i prossimi anni e per il fondo per le derrate alimentari che viene ulteriormente arricchito, siamo sopra i 50 milioni l'anno per i prossimi anni, per quest'anno e per i prossimi. Quindi un'importante e poi ultima cosa o non ultima quella dei soggetti dell'economia sociale. Il tema dell'economia sociale è una delle deleghe che segue al Ministero dell'Economia, è un tema importantissimo che rende la sussidiarietà uno degli elementi importanti della nostra carta costituzionale e del nostro sistema economico e quindi l'importanza della fondazione è uno degli elementi che vogliamo sostenere e sottolineare. Oltre 5 mila volontari, quindi è una mobilitazione veramente importante e partecipano veramente tutti da associazioni, enti caritativi, partner, aziende, persone semplici e abbiamo dei partner storici importantissimi, parlo dei Lions Club, dei Rotary, degli Alpini, di tutte le associazioni scout, c'è veramente un mondo, adesso non voglio dimenticare nessuno perché davvero è uno spettacolo di soggetti che collaborano anche tutto l'anno col Banco Alimentare perché il Banco Alimentare nelle Marche e in Italia lavora ogni giorno dell'anno nei suoi magazzini raccogliendo e distribuendo gratuitamente il cibo agli enti caritativi del territorio. Nelle Marche noi serviamo 290 enti caritativi che a loro volta servono 43 mila persone e oltre in difficoltà economiche, quindi in difficoltà in povertà alimentare. Quindi è davvero un'attività importante e il gesto della colletta che è una giornata nazionale giunta alla 28esima edizione quest'anno. In tutta Italia il 16 novembre, quindi sabato prossimo, ecco perché siamo qui oggi in questa bellissima sala della Regione Marche a presentarla, ci teniamo tantissimo perché la Fondazione delle Marche è una fondazione regionale, quindi si rivolge veramente a tutto il territorio delle Marche, vi dicevo si svolgerà nelle Marche in 398 punti vendita che hanno aderito a questa iniziativa, punti vendita della grande distribuzione dove ci saranno i volontari in pettorina arancione che offriranno, chiederanno alle persone che vanno a fare la spesa di donare una spesa al Banco Alimentare che a sua volta donerà questo cibo ai soggetti che sono in difficoltà. Ecco, quindi questo è molto importante per noi perché la colletta ci permette di raccogliere materiale molto qualificato, un materiale che arriva dalle donazioni appunto delle persone perché tutti donano, quindi anche quelli che possono donare un pacco di pasta fanno questa esperienza perché il gesto del dono è molto semplice, potentissimo e ci consente veramente di essere protagonisti almeno per una volta, di poter abbattere quel cinismo che dice no non c'è niente da fare non possiamo farci niente, il mondo è talmente no negativo, brutto, pieno di guerra e di violenza che senso ha donare? Ha senso perché vi assicuro che queste cose arrivano a chi ha bisogno quindi state tranquilli, la nostra attività è sempre, tutto l'anno, da 30 anni, da oltre 30 anni nelle Marche, noi siamo nati nel 93 e i nostri volontari stabili sono 70 sul territorio regionale che ogni giorno a turni fanno questa attività, abbiamo mezzi, magazzini, uno a Pesaro, uno a San Benedetto un punto logistico a Fabriano, siamo capillarmente presenti proprio per servire questo bisogno noi esistiamo perché esiste il bisogno ed esiste uno spettacolo di enti caritativi, di associazioni che tutti i giorni servono il povero, servono la persona in difficoltà, la persona che ha bisogno di essere accolta che ha bisogno di cibo, cioè il bisogno alimentare è veramente il primo bisogno che ci consente poi di capire tutto il resto della persona, quindi è importante, noi facciamo la nostra piccola parte con riferimento al cibo perché poi siamo un'organizzazione, competenze, formazione che sono richieste sempre di più per trattare i cibi quindi trasparenza, precisione, mezzi coibentati, cioè c'è veramente un'attenzione a tutta la filiera del trattamento del cibo, soprattutto il cibo fresco quindi ecco, mi raccomando, è un invito a tutti a fare questo gesto sabato 16, solo sabato 16 per fare in modo che il banco possa fare il suo lavoro